occorrerebbe tenere presente come con una mentalità occidentale di origine greco-romana che volente o nolente ci condiziona noi ci approcciamo alla lettura dei testi sacri orientali di origine ebraica con la mentalità ebraica le sue analogie e illustrazioni la nostra conformazione analitica e schematica si scontra e non poco con la mentalità biblica questa fondamentale realtà deve essere ben tenuta presente quando ci si approccia agli studi biblici ed esegetici grazie